Buongiorno e benvenuti su Karma Peyotes. Queste sono le avventure del weekend. Sono le 10.30 passate, siamo un po' in ritardo, abbiamo avuto dei contratempi, siamo dovuti tornare indietro perché avevo dimenticato patente e carta d'identità a casa. Vabbè, piccoli, piccoli, piccoli dettagli. Quindi siamo tornati indietro, abbiamo perso mezz'ora e passa traffico e quant'altro perché Treviso è così oggi per colpa del mercato e abitando in centro, insomma, vabbè, stiamo andando in montagna. Il sole tramonterà verso le 5, dalle parti di Salva di Cadore dove ci stiamo dirigendo. Abbiamo un sacco di cose da fare, se questi si spicciano ad andare avanti perché porca miseria siamo a 50 su una strada da 70. Siamo arrivati all'ago di Carezza ma devo cercare un posto. per fare la pipì indisturbata. Forse qui, da queste parti. che bello stare il sole, specialmente quando ci sono tipo due gradi. Bene, allora, questo è il lago di Carezza in pratica. Noi faremo tutto il giro fino a ritornare di là, dal vedere del lago. Bello, indietro. Bello, indietro. Bello, indietro. I don't love you, sister and brother. Un sacco di percorsi che adesso noi non faremo, perché abbiamo altre mete che ancora non conosciamo. Un sacco di stranieri, inglesi, americani, tedeschi e sbizzi. Abbiamo entrambi fatto il P nella natura, perché è giusto così. Cosa c'è di più bello che fare il P sul bosco? Sulla neve poi. Sulla neve che si scioglie. Questa far più spero che tu non la metta. Bellissimo giro, ve lo consiglio. Non ci l'ho messo un po' per arrivare, non mi ricordavo fosse così lunga la strada. E' bello anche da fare in estate, secondo me, anche se non l'ho mai fatto in estate. Questa è la terza volta che vengo ed è la terza volta che vengo in inverno. Anzi in autunno, perché è ancora novembre, però è bella. Sono proprio contenta di aver preso quella macchina là. Guarda come hanno tagliato gli alberi in inverno. E di averci messo le ruote invernali. Fighissimo. Ho un sacco di giri da voler fare questo inverno. Quindi siamo attrezzate quest'anno. Sì. Beh, insomma, siamo a Palafavera adesso. Lassù in alto c'è il palmo. E da questa parte c'è il civetà, che è quello che vorrei fare come missione, arrivare in cima al civetà. Sono le quattro e abbiamo finalmente trovato un supermercato aperto, quindi adesso andiamo a prenderci il cibo, a fare merenda, insomma. Sì. Però merenda al tramonto, bellissimo. Dovemmo trovare uno spiazzo carino dove mangiare e guardare il panorama. Dovemmo andare freddo? No, in macchina. Ah, ok. Oh, oh Ooh, ooh Ooh, whatever Ooh, whenever Oh, oh, oh